No ragazzi vi giuro sono senza anima, io non ho le forze per tornare là, vaffanculo neve di merda porco dio Salve a tutti ragazzi e bentornati con il secondo episodio della Frozen Dance Allora eravamo rimasti qua nel primo episodio intrappolati dentro la lana light blue circondati da schifo merda Dobbiamo assolutamente tornare indietro almeno che non ci sia una shortcut ma sinceramente non ne sono così sicuro Quindi 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 io direi di andare sul tetto perché mi sembra di aver visto che questi stronzi non abbiano la... Questi stronzi hanno l'arco, perfetto e quindi nulla dobbiamo sperare che tipo qua sopra non ci arrivi no prima di tutto E che qua sopra non ci sia nessuno, ora dove posso andare? Holy shit Allora non mi sembra di vedere niente di che, però la continua, o sbaglio? La continua e come? Oh mamma ragazzi ma è no... Cosa ha questo? Ah no la targhetta Allora la situa è la seguente, io vorrei andare a vedere cosa c'è là a destra Perché vedete che ci sono degli spawner, cioè secondo me continua da qua Ragazzi dobbiamo andare a vedere assolutamente, quindi devo uscire da qua Quindi preghiamo il signore, so che è impossibile ma ci proviamo Via, via 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 Scappa scappa scappa, allora metti le torce, ma dove posso andare? Qua sopra? Se faccio un pillar tanto non mi seguono vero? Holy shit se mi seguono, sono velocissimi Cosa c'è qua sopra? Ok non sto vedendo niente Però sembra che effettivamente continui, voglio andare da questa parte che mi sembra di aver visto Della zona enorme Ragazzi comunque ridendo e scherzando La cosa migliore da fare in questi casi è appunto rasciare Perché sinceramente almeno non mi prendono Scusate se rascio così a cazzo ma cosa dovrei fare? È enorme come zona, dovrei spaccare gli spawner effettivamente Oh attenzione qua si esce Oddio un'uscita, oddio un'uscita, oddio un'uscita Ci arrivo? Oddio no non ci arrivo No non ci arrivo, no non ci arrivo, no non ci arrivo, no non ci arrivo, no non ci arrivo Non mi colpite più per favore Dove stiamo uscendo? La zona nuova questa, non ci siamo stati prima Ok allora siamo in superficie Non che sia sicura eh la superficie Però almeno abbiamo un po' di spazio aperto intorno Oh ok cosa c'è qua? Cyan wool, cyan wool No 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 oh maledetta bottana via di qua Eh lo sapevo eh giusto Corcozia Via 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 No 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 Devo saldere su un albero Devo saldere su un albero Creeper supercharged? Ma scherzi? No fra ma stai scherzando? Allora calma Perché adesso c'ho un dubbio Cyan wool È quella, mi sono cascate gli occhiali Non vedo più niente Stato dicendo è quella che abbiamo preso l'altra volta? Non è quella che abbiamo preso l'altra volta Oh no Quindi vuol dire che siamo già nel secondo Ma dove cazzo è il monumento? Scusate Aspettate però questa Curse of Vanishing Ma non è che non scompare dall'invento? No è impossibile, è impossibile Ok allora riordiniamo le idee Allora Cyan wool Quindi siamo nella zona della lana ciano Allora qua almeno possiamo effettivamente stare sugli alberi Cioè nessuno ce lo vieta Quindi possiamo tranquillamente stare qua sopra Il problema principale Possono salire? No che non potete salire Non potete salire stronze Stavo dicendo il problema principale È che Purtroppo ci sono il Creeper supercharged Questa cosa non è molto buona al secondo dungeon su tre Però siamo già al secondo su tre Incredibile Io però ragazzi ho una paura di perdere questa lana Che voi non potete nemmeno immaginare Oh ma dovevi per forza avvelenarmi eh te Maledetta Allora dove possiamo andare? Possiamo collegarci a quel pilone lì Secondo Oh mamma Sì ho capito ma quanto sparano alto ste stronze Ah qua su non ci arrivate Godo Stiamo attenti semmai a non far esplodere i supercharged Perché come potete vedere si colpiscono da soli E se esplode un supercharged qua sotto Molto probabilmente mi prende anche me qua sopra Quindi vorrei evitare Ora mi sono mangiato una mela d'oro Non chiedetemi il perché Quello lì è velenoso Assolutamente sì che domande Ma intanto non ci arrivate È inutile che Che fate gli stupidi No 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 Tu cosa vuoi? Ma questo cos'è? Ghiaccio? Non capisco Dov'è? No possono salire qua No disastro Disastrissimo Disastrissimo se possono salire Fermi tutti Fatemi tappare Ok Allora vorrei andare da questa Con che si spacca il ghiaccio velocemente? Non ne ho idea sinceramente Proprio zero Allora la Saiyan Wool diceva che era là Quindi io direi di andare in questa zona Appunto Vediamo un po' cosa c'è qua dietro Ok Non vedo chissà cosa Cioè o almeno vedo la stessa cosa di prima Il problema ragazzi è che non ho più blocchi Madonna Non ho più blocchi da costruzione Cazzo Eh questo è un bel problema Questo è un big problema La cosa c'è? Sono tutti spawner quelli Ah beh Interessevole Però sinceramente mi sembra di vedere una strada Perché se voi vedete bene Questa sembrerebbe essere la strada principale Ora Finché Non ci sono gli scheletri Sapete che A me non mi interessa Ok So che sto missando tutte le casse Ma Guardate A vedere da bordello che c'è qua sotto Non che mi interessi così tanto Ci arrivo con 17 blocchi laggiù Più 18 di ghiaccio Direi di sì dai Mi è scivolato il dito Ragazzi mi è scivolato il dito Mi è scivolato il dito dallo shift Io non rientro No no Non rientro Mi dispiace La serie può finire qua No ragazzi No no Non ho voglia di rientrare Io non ho voglia di rientrare Io lo so già che c'è la madonna Però aspettate sono uscito Quindi magari sono disponati mob No è impossibile Adesso entra c'è la madonna È giusto Dove sto andando? Di qua No di qua da dove siamo arrivati No non è vero Non è vero No no ragazzi No 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 Siamo tornati alla stessa cosa Del primo episodio Quanti creeper ci sono Maria di Dio Dove sto andando? Dove sto andando? Ma dove vado? Io non so dove andare Là c'è una luce però Attenzione Cerco di salire sopra quest'albero? Mi sa che è la cosa migliore Mi sa di sì Proviamoci dai Uno Due C'è la foglia C'è la foglia C'è la foglia C'è la foglia Ho finito i blocchi Ho finito i blocchi Madonna che culo Madonna che culo Che culo Ok Oh Maria Uff Allora Fatemi fare un calcolo L'aggiuderevamo prima Credo Non lo so Non so dove siamo ragazzi Dispersiva as fuck Poi ci arrivo lì? No Ora ci arrivo? Sì Ragazzi ho finito i blocchi No good No good No good Ho finito i blocchi Mi rimane solo il legno Poi per carità Di legno ce n'è anche parecchio Quindi volendo Posso anche sfruttarlo per ora Ora ve l'ho detto Scusatemi se vedete un contenuto un po' strano Ovvero che sto facendo solo punti Lasciando Ma sinceramente penso sia una delle prime volte Che mi ritrovo in una situazione del genere Ovvero non so come affrontare questa mappa Perché Cioè è proprio difficile Il problema è che qui c'è l'oceano Ecco questa cosa non l'avevo considerata Effettivamente Dove cazzo siamo finiti? Beh Che dire Mi sa che era La parda è sbagliata Allora vediamo un po' se vediamo qualcosa Oddio potrei salire là sopra Effettivamente sulla montagna Non ci ho pensato Però Fatemi un po' vedere Perché mi sembra un po' più tranquilla La situa adesso Se io adesso mi butto nell'acqua E vado sulla montagna Mi vedo no? Sì c'è un botto di casse Immortality charm Però per ora lo lascio perdere L'immortality cazzoli Allora vorrei salire sopra quella montagna Perché Magari dall'alto Si può vedere qualcosina Perché effettivamente Non è che si veda molto per ora È tutto un po' incasinato Tipo anche qua dentro Questa foresta di merda Come cazzo Ci salgo io qua sopra Però prima di proseguire Io direi di prenderci la nostra ascia E prenderci un po' di legno Visto che qua non ci sono mob Sembra E almeno abbiamo dei materiali poi Perché non vorrei ritrovarmi Come poco fa Senza materiali Sinceramente Non ho idea di dove andare Io so già che arriverò Sopra quella montagna E non vedrò niente Zero totale Però proviamoci Anche perché Non mi dà molti indizi Tra virgolette Mi dice soltanto Che siamo nell'area Della Cyan Wool Però non mi dice altro E questa cosa mi mette un po' Insomma così Quindi vediamo un pochino Magari la vediamo dall'alto Ne so Ne dubito Però magari siamo fortunati A parte che Ora che lo sto notando Ci sono questi alberi giganti Che coprono tutto Quindi Non è che sia molto convinto Qua dietro C'è la zona Che stavamo affrontando prima Credo Ok Adesso abbiamo due stack di materiale Vediamo un pochino Se da qua si vede qualcosa Allora non vorrei Ve lo dico sinceramente Che la lana fosse sopra un albero Ho questa impressione Questa potrebbe essere Ora intanto che ve l'ho detto Saliamo un secondo qua sopra Vediamo Se per caso Si vede qualcosa Anche se Come ho detto Ne dubito Infatti Non si vede un ca Oh La cosa c'è Non niente Sono foglie Siamo arrivati in cima Yes Siamo arrivati in cima E ovviamente Non si vede Niente Porca troia E vabbè ragazzi Direi di scendere A sto punto Ci rimettiamo Delle torce qua E scendiamo piano piano E riaffrontiamo Quello schifo merda Ok vorrei cominciare Ad affrontarli In maniera più semplice Quindi magari Spaccando gli spawner Ora io non so Se da qua Però ci sono già passato Si Ci sono già Cos'è sto rumore Ci sono già passato Perché quello è il ponte di prima Ok quindi Direi di andare Da quell'altra parte Ora voglio lasciare qua Solamente per spaccare questo Spacca 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 Easy Perfetto Apriamo questa cassa Beh cibo dai Quanto ha di attack damage 4% Ehi 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 Eccoli 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 Ce la faccio a spaccare anche questo Che se muoio Ragazzi è un disastro Perché devo ricominciare dall'inizio Oh Maria Di Dio Che cazzo Sei te Ok vediamo un po' Lì c'era uno spawner Non credo Qui c'è uno spawner Con No perché ho aperto la cassa Non adesso Questi sciottano Questi sciottano Tantissimo Allora Fatemi ragionare Allora ce la faccio ad ucciderli questi E a spaccare lo spawner Ok Spacca 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 Prima che arrivi quello che se no mi sciotta Ok Allora Mangiamoci una mela d'oro Prima di tutto E rifulliamoci Vediamo cosa c'è qua Strength Sincera Ulla madonna Questi mi interessano E anche questa direi che mi interessa Perfetto Però non mi dice quanto è di attack damage questa qua Vabbè Ehm Boh Non lo so Ok Abbiamo un pochino Diciamo Bonificato la zona Almeno quello Ora Possiamo salire qua direi Su quest'albero Oh Maria Là c'è un Un muro mi sa di avervi Eh lì c'è un creeper supercharged Ok Là c'è una mura Porca troia Ma quanti kaiser di spawner mettono Se esplodesse il creeper non sarebbe ma No oddio Cazzata Cazzata gigante Che se esplode mi prende anche me da qua Perché non sai Sono sopra delle foglie Non è che sia molto Ehm Qui salgono Sì 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 Salgono Salgono Ho sbagliato Madonna che culo Mamma mia Questo sale qui No non ce la fa È impossibile Vero Holy shit Può può Cazzi Cazzi se può Sono cascato di nuovo Sono cascato Sono cascato Grazie per la spinta Grazie Un grande cazzo Cosa c'è No ancora No ragazzi No di nuovo un tunnel Ma questo è ripidi Ma che cazzo Via 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 Scendi 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 Devo trovarmi un posto dove ripararmi Laggiù appena diventa piatto Che tanto mettiamo delle torci Io ragazzi se muoio non so come tornarci qua Oh cazzo Oh cazzo Oddio quanta gente Oddio quanta gente Scappa 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 oddio 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 No 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 dall'inizio no No Dall'inizio no Dio me I don't run away No ragazzi vi giuro sono senza anima Io non ho le forze per tornare là Affanculo neve di merda porco dio Ragazzi, ragazzi, come faccio a tornare laggiù? È impossibile, devo rifarmi anche tutto il dungeon di prima. Cioè praticamente io devo rirasciare fino a dopo la lan. Eh, vabbè, guarda che spawnano già. Peccato che non c'erano delle torce là dentro. Eh, da qua devo lasciare. Via, senza se e senza ma. Ciao a tutti, cosa c'è qui? Uh, torce, una palestra, dammi di tutto. Uh, c'è una cassa anche qua. Eh, oddio, non che mi dia chissà cosa, ma... Uh, questa è buona invece, questa mi sa che è buona. Fermi tutti, fatemi mettere questi, ok. Allora, dov'è che siamo andati? Andiamo a prendere anche quello là? Ma sì dai, tanto cazzo c'è ne se si muore si riprende. Non ci vado, ciao. Ok, siamo all'uscita. Ora, se non sbaglio, devo andare poi verso destra. Il problema è dentro quel tunnel là poi. Oh, cattola. Sempre che sia la strada giusta, eh. Perché potrebbe anche essere la strada sbagliata dopo. Comunque direi che possiamo arrivare alla roba e poi terminare questo secondo episodio in cui non abbiamo fatto assolutamente niente. Ragazzi, ve l'ho detto, questa mappa mi ispirava effettivamente. Qui che c'è? Uh, un botto di roba. Fermi tutti. Effettivamente ce ne dà di roba, eh. Allora, noi siamo andati da qua. Supercharger, supercharger. Porca troia. Ok, devo andare qui a destra. Questa l'ho presa prima. Ok. Allora, siamo messi anche abbastanza bene di armatura. Quindi andiamo con calma. Volevo vedere se riuscivo a prendere anche quelle casse lì dove prima c'erano i supercharger. Qui c'è una cassa. Uh. Un altro cazzi. Dammi tutti. Oh! Oh Maria, mi sono trovato davanti a un supercazzoli. Madonna che colpo. Eh, ho capito. Io come ci arrivo adesso alla voragine? Mi son perso. Supercharger ci sono. Allora ragazzi andiamo. Mettiamoci dei blocchi in mano. E incrociamo alle dita. Allora, buttiamo via le cose che non ci interessano. Perché tanto so già che non ci entrerà tutto nell'inventario. Questa è un breaking. Quindi questa fuori dai coglioni. Questa speed subito. E via. Andiamo. Ok, missione recuperare la roba. Qui che c'è? Ok, prendi tutto. Questa me la metto dopo. Ok, dove siamo morti prima? Ok, lì sopra. Ok, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ok, ridammi. Sì, vabbè, però tutto spazzo. Cazzo di Buddha che fastidio quando fa così. Ma perché deve esplodere tutto? Ok, ridatemi tutta la roba. Ok, sembra abbastanza easy la situa per ora. Ok, posso andare dove sono morto? Qua. Ok, adesso tappiamoci. Senza se e senza ma non voglio storie. Ok, ragazzi, ci siamo ripresi la roba. Quindi, mi organizzo un secondo l'inventario e poi continuo. Non si vede un cazzo, scusate. E niente, con la mia faccina gigante vi dico che per questo secondo episodio è tutto. Nel prossimo cercherò di prendere la cyan wool. No, 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 ragazzi, fermi. No, 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 no. Ragazzi, fermi tutti, non ho la lana. Non ho la lana. Non ho la lana. No, fermi. Curse of Vanishing non è che sparisce? No. No, ragazzi, è un disastro. Ragazzi, è un disastro. Ragazzi, io vi dico che per questo secondo episodio è tutto. Molto probabilmente ci toccherà ritornare anche alla lana precedente a riprenderla, perché penso che sia sparita quella che abbiamo preso. E niente, ci vediamo al prossimo, dove probabilmente impazzirò, perché sono veramente... Alla prossima. Non ho veramente parole. Bello.